Mi dica i sintomi Io mi sento molto depresso Si faccia controllare un attimo che... Posso eh? Lei mi ascolta Calcutta? No, no, no Strava perché questi sono i sintomi da Indy No, ma che Indy? Gazzelle? Ma per carità di Dio Franco 126 Mai sentire... Motta, motta, dice qualcosa, motta Strava perché questi sono i sintomi da Indy? Ma per carità di Dio Ma per carità di Dio Ma aspetta il giornale Ma io non posso Non ascolto, non ascolto La prego, la prego E io ti dirò Lo sai che io ti dirò Queeeel deficiente Lo vedi che la sai? Questa è una depressione da Indy E lei mi sta depresso da Indy Ma non è un problema, c'è la cura Allora dobbiamo ristabilire i valori del pop I valori del pop Allora, lei mi prende... Stia in silenzio Lei mi prende il viaggio Antonacci la sera prima di andare a Taviglia No, mi scusi, attaccio Il viaggio Antonacci la sera prima di andare a Taviglia Antonacci in famiglia Ma che sta dicendo? Le cure sono cure Le cure sono cure Antonacci che... E poi mi prende la mattina Appena sveglio a stomaco vuoto Il Leros Ramazzotti No, scusi, no Leros Ramazzotti è per il progetto Certi amori regalano Un'emozione per sempre I valori del pop E' bellissima questa canzone E' bellissimo Guarda, vai Sarà Sarà L'Aurora 20 miliardi di copie vendute 47 miliardi di copie vendute Un'emozione per i